La Cune Raspino da lontanissimo oggi in prova e segna dai 9 metri Tommaso Raspino davvero in estasi questa sera La Cune Raspino va a svitare le lampadine del tabello di 24 secondi L'1 contro l'1 di Daniel Doncelli che si prende la linea di fondo Yedioha, prova a girarsi Yedioha, prova al tiro, mette questo tiro incredibile Francesco Yedioha Simons da Maldassar contro Roderick ancora per Simons, gran gioco a due, trova lo spazio, gran taglio di Simons Il palleggio, si gira parente, va al tiro, sbaglia, il riposo, la schiacciata! Ed è tutt'uno! Il palleggio, si gira apparente, va al tiro, sbaglia, il riposo, la schiacciata! Ed è tutt'uno! Pastore, Pastore scarica da 7 metri il pallone, poi Bosley però, che spazza l'aria! Prende il riposo, schiaccia! Pastore, mentre per Bosley che va a canestro, torna il protagonista William Bosley! Pastore, Pastore, Pastore!